Siamo con Luisa Guillermo, direttrice della Fondazione Gran Paradis. E ci piacerebbe pensare che abbia il tutore perché non riesce a smettere di utilizzare l'app di una buona occasione, ma temiamo possa non essere così. Diciamo che adesso ho anche una mano di riserva, posso andare avanti, ma riesco a staccarmi da quest'app che è la mia preferita. Questa acqua dà un sacco di informazioni, è molto utile per tante cose. Voglio andare a vedere l'alimento, il mio alimento contribuito di cui vorrei parlarvi oggi, che è l'acqua. Questo giusto per avere informazioni, scoprire l'acqua e il Parco Nazionale Gran Paradis, in particolare le cascate di gilla, a cui vorrei portarvi oggi. Beh, Luisa, ci pare un po' bizzarro parlare di scarsità d'acqua in un posto come questo qua. Sì, sembra davvero assurdo, siamo a giugno, a 1700 metri, le cascate di gilla si presentano nella loro forma migliore. Abbondanza d'acqua e quindi non pensiamo che l'acqua sia in realtà una risorsa scarsa. D'altra parte queste acque si chiamano Grande Evia, che in patua di conio significa grande acqua, proprio per la portata che vedete. E' una portata importante che serve per alimentare, per esempio, le centrali idroelettriche. Qui ne abbiamo una vicino proprio a Lilla, ma anche per scopi agricoli, per il turismo. In realtà c'è molta competizione sull'acqua e vedremo altre testimonianze, magari di acciai, che ci spiegheranno che l'acqua non è sempre abbondante e quindi bisogna farne un buon uso. Allora, il luogo è assolutamente incattevole. Ci aspettiamo di vedere uscire il nonno di Aidi da un momento all'altro. Ma esattamente dove siamo? Allora, siamo a Jimian, siamo a 1700 metri e alle mie spalle vediamo il ghiacciaio della Tribolazione. E' uno dei ghiacciai più belli del Gran Paradiso. Vediamo anche la vetta del Gran Paradiso a 4061 metri. Perché si chiama della Tribolazione? Beh, perché come potete vedere ci sono tanti crepacci dei Seracchi. E' un ghiacciaio ancora molto vivo, molto importante, molto imponente. E non è facile attraversarlo e quindi dico il nome. I ghiacciai sono sicuramente una cartina di tornasole importante che ci indica lo stato di salute del nostro pianeta. Questo ghiacciaio è cambiato molto nel tempo, solo a memoria d'uomo. Ma in generale i ghiacciai sull'arco alpino dal 1850 ad oggi hanno ridotto la loro superficie della metà e hanno ridotto di due terzi il loro volume. Quindi sono davvero l'indicatore più importante del fatto che dobbiamo fare attenzione perché i cambiamenti climatici stanno portando ad un consumo della risorsa acqua sul pianeta. Ma di fatto si fa qualcosa per tutelare la salute, tra virgolette, di questi ghiacciai? Beh, tutti noi possiamo fare qualcosa perché chiaramente, come dicevo, questi sono indicatori dei cambiamenti climatici. E su questi ogni comportamento responsabile del singolo individuo in qualche modo incide. Quello che si fa nel parco è monitorare i 59 ghiacciai del Gran Paradiso. E monitorandoli purtroppo non abbiamo molte buone notizie. La riduzione è importante, ma questo è un messaggio che in qualche modo di qui portiamo a tutti per avere consapevolezza di quello che sta accadendo. Luisa, finora abbiamo visto cascate magniloquenti, abbiamo visto ghiacciai altrettanto scenografici, ma forse in questo momento un po' in difficoltà, ma abbiamo parlato di acqua sotto l'aspetto quantitativo. Cosa diciamo invece sulla qualità dell'acqua? Beh, la qualità dell'acqua rispecchia quelle che sono le nostre scelte, le scelte di consumo e le scelte di produzione. Abbiamo detto che l'acqua viene utilizzata per esempio per la produzione di cibo e l'agricoltura intensiva, l'allevamento intensivo restituiscono un'acqua inquinata. E un'acqua inquinata non consente alla natura di esprimere per esempio questa biodiversità. Io sono seduta in un prato del Parco Nazionale Gran Paradiso e sono circondata da un'enorme varietà di specie botaniche. Questo perché l'acqua è pulita. Direttrice, come sa nell'app Una Buona Occasione c'è un'ampia sezione di ricette antispreco. E allora volevamo cogliere l'occasione e parlare di cibo dal punto di vista della seduzione. Sappiamo che lei è una donna molto corteggiata e allora le chiediamo ma se è capitasse che un uomo la invitasse a cena e le preparasse un cibo tutto basato sul riutilizzo degli avanzi, lei come la prenderebbe? Ma diciamo che se succedesse, riuscisse con il riutilizzo degli avanzi a fare anche una cena buona, me lo sposerei. Grazie.